Prima fila, Magazine. Oggi parliamo di un altro teatro sempre in zona Borgo Panigale che festeggia anche lui un compleanno, il 40esimo, e che ha scelto come titolo per la nuova stagione un elemento mitologico, Chimere. Stiamo parlando del teatro ridotto. Lina, a 40 anni, sono un traguardo veramente molto importante. Quali sono le caratteristiche di questa nuova stagione teatrale 2023 di Chimere, di teatro ridotto, che si chiama Chimere? Le caratteristiche sono i diversi linguaggi che dialogano. Abbiamo giovani, meno giovani, come si è detto precedentemente nella conferenza, e il lavoro pedagogico. Quindi per noi, per me, e quindi per il teatro ridotto, ciò che importa è non dimenticare da dove siamo partiti, quindi non lasciare indietro i maestri, ma farli incontrare con gli allievi. Quindi giovani e maestri di una certa età, quindi devono incontrarsi, altrimenti si perde la tradizione della maestria, si perde la tradizione dell'apprendere, e noi invece il motto è apprendere ad apprendere sempre. Un concetto quasi artigianale, se vogliamo, no? Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi partiamo dal training, e il training è fisico-vocale, perché un attore, se non si allena, diventa cinematografico, e spesso, e non sempre ovviamente, il cinema viene chiaramente diretto da dei maestri che fanno cinema, e che non hanno bisogno, forse, di essere vivi davanti alle persone, ma attraverso uno schermo, che è tutto un altro tipo di preparazione. La stagione parte il 21 gennaio e si conclude il 10 settembre. Naturalmente è lunga, ci sono molti appuntamenti, li scopriamo naturalmente attraverso i vari siti internet, però, come sempre, ti chiedo di segnalare ai nostri spettatori un titolo particolarmente ghiotto, diciamo così. L'ultima notte, su Silvia Platt. Benissimo, grazie mille, Lina della Rocca, per essere stata con noi. Appuntamento dunque a Lavino, al Teatro Ridotto, Lavino di Mezzo, che, ricordiamolo, non sembra, ma fa parte del Comune di Bologna e del quartiere Borgo Panigale. Esatto, bravo, proprio così. A volte ci si dimentica. Grazie a te. Grazie a te.